acting challenge videochiamata parte quattro tutta con me due le battute rosse hai visto siete in lago? no basta non guardo più che l'ultima volta ho guardato qualcosa e sono scrociato vorrei evitare stavolta eh guardi quel fiore lì? non mi rotto il cazzo sei contento? ma potremmo aprire la serra oddio ma l'hai sgagata? si guarda me lo porto a casa oddio adesso se non ci fossi dovrebbero inventarli comunque è bello qui no? si si è bello una bella villa la guardo qui io vuoi che sia bello una villa? si senza essere soldi lo farei comunque dove è sto posto? sei vicino mancano 300 metri dai guarda guarda che alle 10 di sera siamo ancora qua a raccogliere i fiori